Sì, taglia la tela? Sì Buonasera, mi chiamo Cruciani, come sta? Lorenzo, salve Sì, salve, buonasera Come andiamo? Taglia la tela? Bene, bene Senta, voglio capire una cosa, ma lei fa parte della commissione antimafia? Sì, ci faccio parte da moltissimi anni Ecco, ma che ne pensa di tutta questa storia? Perché non si è sentita la sua opinione in questi giorni? Di questa storia di Agnelli, insomma Sono convinto che da parte della società sia stato sottovalutato, nella migliore delle ipotesi Il ruolo dell'indagato per reati così gravi come quelli dell'appartenenza all'Andrangheta Le pare dal punto di vista sportivo che Agnelli debba essere punito? Guardi, a me non interessa una punizione di Agnelli, francamente Preferisco la Juventus da tifoso del Napoli batterla sul campo Quello che a me interessa è che il calcio faccia i conti con quello che purtroppo esiste In qualche modo la sottomissione da parte delle società nei confronti dell'Ultra Ma quello viene per tutte le squadre però Però guardi, io per carità, è vero che io non sono un soggetto idoneo ad essere considerato al di sopra delle parti Soprattutto perché lei dice che non bisogna sottomissione dell'Ultra Ma c'è una fotografia in cui lei ha questa sciarpa che ho scritto Juve Merda E' questo che c'entra con l'Ultra Che fa la violenza Non è un messaggio di pace Poi lei ha anche un ruolo istituzionale Per carità, ma io nel momento in cui definisco una squadra in maniera negativa Non mi pare che questo non mi possa permettere di esprimere le mie posizioni Lei non è un Ultras, credo Io non sono assolutamente Da un punto di vista della passione e del tifo nei confronti del calcio a Napoli lo sono Cioè lei è un Ultras a Napoli? Assolutamente sì Cioè dire Juve Merda è normale? E' una cosa che ogni tanto da un punto di vista calcistico diverte Cioè lei lo dice ogni tanto allo stadio E Juve Merda, Juve, Juve Merda Qualche volta sì, quando lo merita assolutamente sì E allora non si può lamentare quando Salvini canta la canzone sul Vesuvio Beh, mi pare che c'è una differenza fondamentale No, anche lui a me sta non sta simpatico Salvini E come Salvini dice io sono un tifoso del Milan E il Na è ora un canto contro il Napoli Puzza, non era un canto contro il Napoli Senti quanto puzza No, no, è un canto contro la città No, è un toro calcistico E' un toro calcistico Io l'ho messa lì, non sta simpatico Ma se lei dice Juve Merda ed è un rappresentante delle istituzioni Non si può poi lamentare Se qualcuno se la prende con lei perché dice Juve Merda Scusi, augurarsi che i napoletani vengano lavati col fuoco è la stessa cosa No, ma è un toro calcistico E' un toro calcistico Allora, nei confronti di Napoli città e dei napoletani A prescindere dalla difenda del tifo calcistico Di un atteggiamento di pregiudizio Sì, d'accordo Ma lei è un rappresentante delle istituzioni E ha esposto una sciarpa E dice anche che è normale gridare Juve Merda allo stadio Che ammetterà che rispetto ai tifosi Quando se lo merita è assolutamente normale E quando se lo merita, scusi? Quando ci sono dei favori arbitrali Quando si comporta Perché la Juve è favorita dagli arbitri, scusi? Beh, mi pare proprio di sì Cioè i campionati sono falsati, secondo lei? Beh, mi pare che alla Juventus siamo stati evocati degli scoletti No, prima, anche adesso sono falsati Lei immagina che quello che è accaduto nel passato Ed è stato provato, non possa accadere nel presente? E dunque lei dice che anche adesso Bene, è favorita dagli arbitri I campionati dunque sono falsati Io penso che la Juve sia sicuramente la squadra che dice i favori arbitrali E dunque oggi la conseguenza che lei deve dire è che i campionati sono falsati Lo veriferemo, certo Il fatto che gli arbitri stringano le mani e abbraccino i giocatori Non è un bel modo di vedere le partite Scusi, ma questo lo fanno per tutti, lo fanno con tutti Questo non lo so dire Soprattutto con i tifosi Lei dice che gli arbitri hanno una familiarità eccessiva con i giocatori della Juventus Io so che gli arbitri sono sponsorizzati dalla Fiat e quindi dalla Juventus Prendono soldi Ma non è vero, che prendono soldi dalla Fiat e dalla Juventus? Non è vero, è falso Ma come non è vero, è assolutamente vero Gli arbitri prendono soldi dalla Fiat Gli arbitri hanno una, la federazione arbitrale ha una sponsorizzazione di una società che fa capo alla Fiat Guardi a me non mi risulta E allora si informi tra il giornalista che è un po' ignorante Ma può d'anzi che gli arbitri è un elemento che per un'efficienza chiarezza sarebbe meglio di dare Va bene, grazie tagliate la tela Allora ragazzi, la notizia che in sponsor degli arbitri questa società di assicurazione Com'è che si chiama Eurovita, la Provita, Eurovita, la Provita non c'entra niente Non mi ricordo nemmeno Quella è un'altra cosa Questa società è collegata alla Fiat 2 Sarebbe È una bufala colossale È una bufala colossale Dunque, com'è ampiamente prevedibile l'ignorante non sono io ma è il signore che ha parlato prima Mi pare particolarmente grave che un deputato della Repubblica dica una cosa appena ricamata o presa su internet Cioè che una società che sponsorizza gli arbitri che è presente sul Roi Marchio, sulla casacca degli arbitri Sia collegata alla Juventus La Juventus paga gli arbitri attraverso questo sponsor È una bufala colossale È una bufala colossale Lo dice un deputato della Repubblica Il quale si vanta di dire anche Juve Merda allo stadio Siamo ridotti in questo modo ragazzi